Anche aziende con sede a Prato, Pistoia e Firenze nel complesso meccanismo finalizzato all'evasione fiscale scoperto dalla Guardia di Finanza di Oristano. Le cifre sono da capogiro, si parla di affari per 200 milioni e di IVA e Vasa per circa 37. Si tratta di aziende gestite da cinesi che si sarebbero prestate ad operazioni finanziarie che consentivano dietro l'emissione di fatture elettroniche di generare debiti IVA. 19 le persone finite nei guai, un consulente fiscale italiano e 18 imprenditori cinesi. In pratica il sistema, fondato su imprese aperte ma non attive, consentiva di mettere in piedi consistenti flussi finanziari tra un imprenditore di un'azienda con sede in Sardegna e le ditte fornitrici con sede non solo nella piana che abbraccia l'area tra Firenze e Pistoia ma anche Roma e Venezia. I finanzieri hanno condotto l'indagine sotto il coordinamento della procura di Oristano portando alla luce il sistema di frode. Una maxifrode basata sulle ditte apri e chiudi che nell'arco di due anni fatturavano vendite per decine di milioni a favore di altre ditte. Incassavano i proventi, li trasferivano in Cina disperdendo poi ogni traccia. Al termine dei due anni finiva il ciclo vitale della ditta che così facendo poteva sottrarsi senza problemi a verifiche e controlli. Verifiche e controlli successivi resi impossibili dall'impiego di prestanomi. Le accuse, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesse a dichiarazione, dichiarazione infedele e autoriciclaggio.